Facundo Roncaglia scalda i motori verso la Roma e lo fa respingendo l'ennesimo tentativo di essere equiparato a passarella spiegando di non averlo mai visto giocare anche se come carattere potrebbe anche starci. L'intervista in edicola in forma integrale sulle pagine della Nazione a firma di Laura Alari prosegue con le parole sulla sfida contro la Roma Lo sguardo poi si allarga a considerare un po' l'intero campionato e così spiegando di essere un duro soltanto quando serve di avere un carattere invece molto docile Roncaglia sorprende anche nel giudizio tra una delle squadre che gli è piaciuto di più in tutto il campionato. A Juve poi che squadra ti è piaciuta di quelle che hai visto fino adesso? Eh, eh, Cagliari. E spiega ancora una delle squadre che ci ha messo di più in difficoltà qui in casa. Poi parlando del futuro prossimo si augura di poter tornare a trovare presto un gol magari bello come quello fatto contro il Parma mentre parlando del futuro più remoto dice potrei anche fare all'allenatore sì ma soltanto dei ragazzini.